Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. Continua il girone infernale delle pessime uscite di Bergoglio. Vero è che Bergoglio, che taluni si ostinano ingiustificatamente a considerare il Papa, ma che Papa non è mai stato, come abbiamo mostrato nel nostro studio la fine del cristianesimo, non è nuovo a sortite di questo tipo. Si potrebbero anzi menzionare una dopo l'altra, mettendole in fila, ed è quanto fatto anche appunto nel mio studio la fine del cristianesimo. Qual è l'ultima infelice sortita di Bergoglio? Nell'incontro a porte chiuse, nel quale volgarmente ha detto c'è già troppa frociaggine, sic, questa è la volgare e inqualificabile espressione di Bergoglio, altri si detto che il chiacchiericcio è roba da donne, sic, il chiacchiericcio è roba da donne. Un'altra uscita infelicissima, per essere ancora molto generosi nel giudizio, che ci rivela, se ancora ve ne fosse bisogno, che Bergoglio non è il Papa. Sappiamo che non è il Papa per ragioni canoniche, da che Ratzinger non ha mai rinunziato al munus e dunque l'elezione di Bergoglio è ipso facto invalida, ma sappiamo che non è il Papa anche a posteriori per le uscite indegne di un Papa che egli così frequentemente fa, di cui questa è solo l'ultima in ordine di tempo.